Siamo nello stenne della Valtrebbia, la Valtrebbia parte dalla Statale 45 e va sino a Gorreto che è l'ultimo comune della Valtrebbia sul confine con Reggio Emilia. I primi comuni che troviamo Bargagli con il presepe di Viganego, Salenio troviamo, stiamo parlando di presepe, quello di Pentema, molto importanti sia per le loro statuine anche per le loro costruzioni fatte in Ardesia che escono come il prodotto poi più importante del presepe perché le case fatte in Ardesia sono la cosa che particolareggia il nostro presepe. Salendo troviamo Torriglia che qua presenta l'UFO Tour per i suoi trascorsi di ritrovamenti e avvistamenti di UFO. Dopodiché ci troviamo a Gorreto che è l'ultimo comune della Valtrebbia Ligure, sede di una delle più importanti riserve di pesca, per gli esperti sia area no kill che riserva vera e propria di pesca. Dopodiché si passa ad Arrovegno con i suoi prodotti, sede dell'Expo dell'Alta Valtrebbia e sede di una gara di orientamento internazionale che si svolgerà dal 27 luglio al primo di agosto.